Ciao ragazzi, oggi vi racconto una storia di successo di un ragazzo di 23 anni che in meno di 6 mesi si trova a un posto indeterminato presso l'Agenzia, l'Azienda dei Trasporti Municipalizzata di Nottingham. Buongiorno, ben ritrovati, questa è una delle tipologie di video che mi piace di più, che sono quelle in cui racconto la vostra storia, è una storia positiva, questa è una storia di Davide, un ragazzo di 23 anni che ha fatto dei grandi passi nell'ultimo anno e la condivido con voi. Allora, praticamente Davide mi ha contattato l'anno scorso, verso aprile, chiedendomi una mano per il curriculum, qualche consiglio anche per la ricerca a lavoro, dato che faceva fatica durante i colloqui e insomma non aveva ancora trovato quello che gli piaceva. Praticamente adesso vi leggo qualche riga della sua email così seguiamo il filo del suo discorso. Infatti in questi 6 mesi ho spaccato, quindi ho molato la famiglia in cui vivo come au pair, perché avevo capito che lui si era trasferito a Nottingham inizialmente come au pair. L'au pair è una persona che vive presso una famiglia e aiuta i genitori con i figli, li porta a scuola, li segue, li aiuta con i compiti. Insomma, quando i genitori sono al lavoro e non hanno tempo di gestire i figli, danno questa attività a una persona giovane. Di solito sono quasi sempre donne, ma anche per gli uomini in certi casi sono ben accetti a dare una mano in casa. Ecco, è un'ottima opzione per avere un lavoro e un tetto, diciamo, perché ovviamente andreste a vivere con la famiglia che vi ospita. Quindi mi fa che ha lasciato questo au pair e ha iniziato a lavorare come magazziniere, warehouse, in una warehouse, facendo picking and packing. Come lo descrive lui, mi viene da ridere un lavoro da polacchi, beh è vero, immagino. Che comunque mi offriva una paga decente nella mia città a Nottingham. Poi mi fa, mi ero ripromesso che avrei cambiato lavoro e che avrei fatto qualcosa di diverso da quello, che quello al solo inizio è una cosa temporanea e non avrei mai lavorato in una cucina come ogni italiano medio. E questo applauso perché, a quanto pare, i miei video e il mio messaggio di evitare la cucina, evitare la ristorazione, vengono percepiti, o comunque non è solo la mia opinione. Ci sono ambizioni migliori, superiori a fare il cameriere. Quindi questo ragazzo non voleva farlo, non ha voluto fare il lavoro in cucina e non ha assolutamente l'ambizione di trovare qualcosa di meglio perché ovviamente non si è fermato a fare il magazziniere lì. E un bel giorno lo hanno chiamato dalla NCT, che è la Nottingham City Transport, offrendogli un colloquio per diventare bus driver. La Nottingham City Transport è praticamente la municipalizzata, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici per la città di Nottingham. Quindi gli hanno offerto questa chance, lui l'ha presa, ha fatto, da quello che leggo, un assessment diviso in quattro fasi, test teorici, test di concentrazione e test psicologici. Ha superato questo primo esame alla prima botta, eliminando e superando molti inglesi, grande. Dopo questo primo test gli hanno mandato a casa appunto un contratto a tempo indeterminato, con la clausola ovviamente di prendere la patente D nei prossimi due mesi, pagata da loro. Quindi gli hanno offerto il lavoro con la clausola di essere in grado di farlo, quindi pagandogli la patente, quella per gli autobus, presumo. E quindi com'è che chiude l'email dicendo che facendo la corta, nonostante lo stress e tutte le pressioni di essere il più piccolo del gruppo, l'unico straniero. Perché mi immagino poi che, immaginatevi a un concorso per bus driver in Inghilterra, come in Italia, sono tutti locals, tutti inglesi, tutti british. Quindi è riuscito a trovare una carriera, come descrive lui, ben pagata, in solamente sei mesi e ne è molto fiero. E gli faccio i miei complimenti. Sta iniziando a conoscere meglio la città, i suoi colleghi, gli portano molto rispetto, lo trattano bene, nonostante è italiano, nonostante Brexit e tutte le cazzate. E inoltre mi ha anche detto che sta cominciando a guardarsi attorno per comprare casa, perché in effetti con il lavoro che ha e lo stipendio che ha, che si aggirerà, presumo, tra le 25 e 30 mila sterline, tra le 25 e 30 mila sterline, con uno stipendio del genere, comprare una casa a Nottingham è assolutamente fattibile e oltretutto raccomandato, visto che Nottingham è una città con ottime basi, una città di studenti, una città con grandi investimenti e con ottimi potenzialità di crescita nel futuro. Quindi fa solo bene a cercarsi una casa, comprarsela se riesce e continuare nel suo percorso inglese, integrarsi nella città inglese. Fuori da Londra, vedete, non esiste solo Londra, non esiste solo la ristorazione e appunto se avete l'attitudine giusto, lo spirito giusto, potete tranquillamente competere con le persone locali, con gli inglesi in questo caso, e non dico rubargli il lavoro, perché non è che ha rubato il lavoro nessuno, ma dimostrare che siete all'altezza e potete tranquillamente fare un lavoro, che se ci pensate uno si immagina che l'autista di un autobus, un lavoro, come dire, in una società simile al comune di Nottingham, probabilmente lo avrebbero dato solo a inglese, invece il nostro ragazzo di soli 23 anni è riuscito a prenderselo e, ripeto, complimenti, spero questa storia vi sia risultata interessante, vi aveva dato qualche stimolo in più e quindi la morale, come sempre, cercate di puntare in alto, cercate di non accontentarvi, cercate di non avere obiettivi troppo bassi e fatevi il culo, perché poi i risultati arrivano, ok? See you soon e alla prossima storia di successo e se ne avete qualcuna o qualcuno di vostri amici, volete raccontarmi qualcosa da condividere, io sono qui, sono ben felice di riportare storie positive e spargere il verbo. Ciao!